Sono numerose le segnalazioni che stiamo ricevendo in questi giorni dai cittadini di Arezzo in merito alle condizioni delle caditoie. Adesso siamo in piena siccità ma se dovesse piovere, dicono i cittadini, il sistema potrebbe non ricevere appunto le acque e quindi si potrebbero causare degli allagamenti. Qui siamo nella zona di Porta San Clemente ad un passo dal centro storico della città. Le condizioni delle caditoie non sono certo buone, alcune sono addirittura occluse dall'asfalto. Se vuol dire uno stifo? Eh, allora uno stifo che il comune qui fa uno stifo, che delle fogne non ce n'è una che fa bene. Io sto in pescaiola, lì è ancora peggio, c'è Piazza Andrometra che fa stifo. Quello spesso no, in realtà. E per il resto non ci faccio molto caso, però spesso non sono puliti. Quindi cosa riscontri? Vegetazione, sport? Sì, esatto, e a volte cattivo odore. Una situazione che i cittadini hanno segnalato con post sui social network, ma c'è qualcuno che ha già avvertito anche l'assessore di competenza Alessandro Casi. Il servizio è stato affidato a Sei Toscana, ci risponde l'assessore contattato telefonicamente. Una pulizia che viene effettuata a calendario, quindi programmata, oppure a chiamata dietro segnalazione. Invitiamo, dice ancora l'assessore, tutti i cittadini ad effettuare la loro segnalazione all'ufficio manutenzione. Intanto però la situazione è questa. Male, è conciato male. Da tutte le parti, quando piove, anche nei piazzali, per casa nostra, c'è sempre quell'acqua alta che non se ne sa, alla fine viene su. Perché non vengono pulite le caditoie? No, no, infatti, per me sì.